Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura all'emergenza sanitaria, prove di zona bianca per tre regioni di Italia. La campagna dovrebbe partire il prossimo 21 giugno. Poi la cronaca con l'arresto a Casoria di due giovani per l'omicidio di un 19enne vittima innocente della Camorra. Ci occupiamo poi del progetto del servizio civile digitale giovani a supporto degli enti pubblici. Ne abbiamo parlato con il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Cerimonia di premiazione questa mattina all'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco per il concorso regionale Inventa il tuo spot per una corretta alimentazione. In chiusura agli eventi parte il 3 giugno la competizione indetta da Stecca per le start-up del territorio. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. L'Italia fa le prove in zona bianca via le restrizioni che hanno segnato la vita degli italiani negli ultimi sette mesi in riapertura di tutte le attività in Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna con 3 milioni di concittadini che hanno dato l'addio al coprifuoco. Un anticipo di quanto accadrà in nove regioni nella provincia di Trento tra il 7 e il 14 giugno che si accompagna ad un altro passo significativo verso la normalità. La riapertura in tutto il paese dei ristoranti al chiuso a pranzo e a cena con l'obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo e la possibilità di tornare a prendere il caffè al bancone del bar. E' saltato anche il limite di massimo 4 persone al tavolo. Saranno nuovamente possibili le tavolate tra amici. Il bollettino del Ministero della Salute, nonostante il solito calo dominicale dei test, conferma la discesa della curva dei contagi, con 1820 nuovi positivi su 87.000 tamponi e il dato delle vittime ancora sotto quota 100 in 24 ore. Il cronoprogramma dunque prosegue ed anzi nelle tre regioni bianche hanno riaperto in anticipo tutti i settori la cui ripartenza era prevista per il primo luglio. Piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo, casino, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione, pubblici e privati. Aperte anche le discoteche, ma solo per somministrazione e ristorazione. Insomma, si mangia e si beve ascoltando musica, ma non si può ballare. Le uniche restrizioni rimaste sono l'utilizzo della mascherina e il distanziamento, oltre al rispetto dei protocolli che regolano i diversi settori indicati nelle linee guida. Nelle tre regioni bianche si può tornare anche a far festa. I ricevimenti dopo matrimoni e comunioni, ma anche i compiani e feste di laurea, sono consentiti, mentre nelle regioni gialle si dovrò attendere il 15 giugno. Per parteciparvi, sia in zona bianca che in giallo, serve però una delle tre certificazioni verdi previste al decreto e che durano nove mesi. Il certificato di avvenuta vaccinazione, dopo la seconda dose oppure 15 giorni dopo la prima, il certificato di guarigione o un tampone negativo, effettuato 48 ore prima. In attesa che arrivi il pass digitale sull'appio o immuni, potrebbe già essere pronto per il 15 giugno o al più tardi, quando entrerà in vigore il Green Pass europeo il 1 luglio, basterà la certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria. La prossima data, ora da segnare sul calendario, è il 7 giugno. Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca, mentre nel resto d'Italia gialla ci sarà un altro passo verso l'addio al coprifuoco. Dalle 23 sletterà alle 24. La settimana successiva, se i dati manterranno l'attuale andamento, toccherà Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e provincia di Trento passare in bianco, mentre le ultime sette regioni, fra cui la Campania e la provincia di Bolzano, dovranno attendere il 21 giugno, quando sparirà ufficialmente anche il coprifuoco. L'ultimo simbolo che se ne andrà, invece, è la mascherina. Si potrà pensare di togliere l'obbligo di mascherina all'aperto quando metà della popolazione sarà vaccinata, ripete anche oggi il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Ma serve buonsenso ed è chiaro che in estate la mascherina all'aperto, dove non c'è assembramento, si può mettere nel taschino. Questa mattina a Casoria i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Partenopea nei confronti di due soggetti gravemente indiziati, uno per estorsione aggravata dal metodo mafioso e l'altro di due episodi estorsivi aggravati dal metodo mafioso, di cui uno tentato e uno consumato, nonché dell'omicidio di Giarnieri Antimo all'epoca 19enne e del tentato omicidio di un soggetto minorenne, rimasto nell'occasione ferito al fianco sinistro. L'evento si verificava in data 8 luglio 2020 a Casoria, in terza attraversa via Castagna, comunemente nota come Parco Smeraldo, e sin dalle prime attività investigative la vicenda ha presentato agli inquirenti i classici tratti di un agguato connotato dal carattere mafioso. Quella sera infatti il killer disceso da una vettura guidata da una persona allo stato ignota esplodeva all'indirizzo di un gruppo di persone 8 colpi di pistola calibro 7,65, di cui 4 colpivano i Giarnieri, provocandone la morte e un colpo raggiungeva il soggetto minorenne scampato fortuitamente alla morte. Le indagini condotte dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna e coordinate dalla DDA di Napoli hanno permesso di accertare che il reale obiettivo del russo fosse un altro soggetto fatalmente scambiato per l'incensurato Giarnieri, risultato invece strano a dinamiche delinquenziali. Il grave fatto di sangue, secondo gli elementi raccolti, va inquadrato in una violenta contrapposizione tra fazioni della criminalità organizzata in lotta per il controllo della piazza di spaccio del Parco Smeraldo, luogo in cui si è consumato il delitto. In particolare il russo Tommaso, individuato dalle investigazioni in corso quale soggetto gravemente indiziato per l'agguato presso il Parco Smeraldo oltre ad essergli contestato l'uso di armi, viene contestata l'aggravante del metodo mafioso, in quanto farebbe agito per agevolare l'attività e gli scopi criminali del gruppo camorristico di cui il referente territoriale è Barbato Salvatore, alias Totoro Khan, elemento contiguo al clan Moccia, e lo stato detenuto per estorsione aggravata dal metodo mafioso, nonché ha lo scopo di affermare il controllo di quest'ultimo sul territorio. Nel corso delle attività investigative sono stati inoltre contestati due episodi di natura estorsiva di cui uno tentato e uno consumato ai danni di due spacciatori del luogo che per poter continuare delle loro illecite attività di spaccio erano costretti a versare una quota imposta dal clan, altro elemento sintomatico della volontà di imporre un controllo capillare del territorio attraverso il cosiddetto racket sull'attività di spaccio. In uno degli episodi contestati uno degli indagati strappava parte del padiglione auricolare ad una vittima minacciandolo di fare il bravo perché ora ci siamo io e Totoro Khan. Nella seconda estorsione poi i due si facevano consegnare la somma di 500 euro, quale quota mensile imposta dal clan da un soggetto distretto agli arresti domiciliari ricorrendo anche a violenza fisica per costringerlo a consegnare il denaro. Il tutto dinanzi alla moglie della vittima, anch'essa credita brutalmente nel mentre cercava di reagire a difesa del marito. Siamo qui oggi con l'onorevole Luigi Gallo per parlare di nuove iniziative che potrebbero portare un minimo di ripresa ai giovani e ai nostri comuni. Parliamo di servizio civile digitale. Che cos'è questo progetto? È una grande opportunità per i giovani. Si parte con mille giovani coinvolti nel servizio civile digitale che permetterà a chi è più competente con i pc, con il mondo del web, gli smartphone, a dare una mano a chi non lo è. Sia le pubbliche amministrazioni, sia i privati, ma anche nella scuola possiamo pensare quante difficoltà i genitori hanno avuto con gli strumenti digitali, gli anziani che possono adesso pagare le proprie bollette o avere dei servizi dal comune attraverso gli smartphone, però serve qualcuno che le aiuta. Parliamo di un'Italia che, secondo gli ultimi dati, è sempre più arretrata per quanto riguarda la digitalizzazione. Quanto un progetto del genere può aiutare questo processo? Può aiutare molto perché per il piano con i fondi europei di Next Generation si partirà proprio a luglio, nei prossimi mesi, con i finanziamenti sul digitale. Si parla di banda larga, si parla di formare i giovani, anche i lavoratori che devono trovare occupazione sul mondo digitale. Quindi questo è un processo. Ci sono 60 milioni per 9.700 giovani nel campo del servizio civile digitale, nel PNRR, ma ci sono anche le misure per la banda larga per arrivare sia nei comuni, sia nelle abitazioni private che nelle scuole. Favorirà anche l'occupazione giovanile? Favorirà l'occupazione giovanile, si innesterà con delle misure che ci sono nelle leggi di bilancio. Noi abbiamo il 100% di decontribuzione per tutti i giovani sotto i 36 anni, per le assunzioni di tutti i giovani sotto i 36 anni, e anche il 30% di contribuzione al sud. Quindi nelle regioni del sud, chi viene assunto, qualsiasi età avrà questo sconto per l'occupazione. Quindi le imprese sono agevolate. Bisogna partire sulle nuove skill, sulle nuove direzioni, che sono il green e il digitale, che significa qualità della vita rispetto alla quantità dei prodotti. Cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del concorso regionale in venta è il tuo spot per una corretta alimentazione. A salire sul palco, le classi terza A e terza D risultate vincitrici della scorsa edizione del concorso per l'anno scolastico 2019-2020. Premiata anche la classe seconda A per la partecipazione all'edizione attuale del concorso e vincitrice del premio speciale Anna Di Gennaro. L'iniziativa si pone l'obiettivo di formare i ragazzi alla corretta alimentazione e alla conoscenza del proprio territorio e della propria agricoltura. Presenti alla cerimonia di presentazione l'assessore Brunella Mercadante della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il dottor Salvatore Peridolo in rappresentanza dell'ente comune di Torre del Greco. È stata una mattinata intensa la presenza dei rappresentanti della regione Campania la presenza del dottor Perillo per quanto riguarda l'amministrazione comunale ma tanta soddisfazione per me come responsabile della comunità dell'istituto Falcone Scauda perché i ragazzi attraverso le loro produzioni originali fantasiose ma con approfondimenti specifici per quanto riguarda l'alimentazione hanno reso davvero visibile quello che è il percorso che il collegio dei docenti gli organi collegiali la comunità della scuola ha voluto passare in questi anni Gli spot presentati elaborati dai nostri giovani ci indicano che stiamo percorrendo una buona strada stiamo realizzando il nostro progetto d'istituto e se questo avviene avviene perché vi è una squadra perché vi è una comunità alla comunità fanno parte anche i genitori che proprio in questo periodo di chiusura delle scuole di didattica a distanza hanno fognito ai giovani davvero tantissimi input per elaborare quanto andavamo facendo quindi grazie a quanti hanno reso possibile questa iniziativa una bellissima manifestazione oltre che una bellissima mattinata quella qui insieme ai ragazzi e i docenti alla preside dell'istituto Falcone Scauda e il messaggio molto bello che ho portato a nome del sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e a nome dell'assessore alla pubblica istruzione e alla cultura Enrico Pensati è proprio questo dove il mondo si è fermato e cioè la scuola da lì oggi è ripartita la rinascita questo bisogno e questa sete di ritornare alla normalità una manifestazione bellissima una delle tante che oltretutto sul territorio già nei giorni scorsi e nei giorni prossimi si sono organizzate e si organizzeranno proprio dalla comunità scolastica imparare a mangiare e promuovere i sapori e i gusti della dieta mediterranea significa promuovere la cultura dei nostri luoghi della nostra regione della nostra storia e il patrimonio del nostro DNA Explosiva Challenge 2021 un progetto che mira sulla competizione per far nascere e far sviluppare le start-up del territorio Explosiva che noi abbiamo chiamato Challenge delle idee vulcaniche è un programma di animazione e valorizzazione di nuovi progetti impenditoriali in chiave innovativa e tecnologica un modo anche per rivitalizzare un po' il tessuto impenditoriale che esce sofferente da questo periodo di crisi sanitaria di crisi economica e quindi abbiamo pensato grazie al supporto dei nostri partner tecnici di proporre una competizione una Call for Ideas per i servizi innovativi progetti in chiave tecnologica e digitale Presentazione quindi è il 3 giugno cosa sarà questo evento? Il 3 giugno è il primo evento il primo di una serie di eventi in occasione dei quali i nostri partner istituzionali e i nostri partner tecnici ci accompagneranno nella presentazione della Call esplosiva quindi il 3 giugno sarà un momento diciamo così istituzionale qui faranno seguito una serie di workshop tecnici con i quali noi abbiamo pensato di accompagnare la costruzione dei progetti impenditoriali con una serie di stimoli e con una serie di contenuti tecnici quindi saranno tenuti dai nostri partner con temi dalla costruzione del business model business plan aspetti digitali a favore delle imprese l'importanza del marketing della comunicazione insomma una serie di stimoli anche dal punto di vista tecnico per la compilazione del progetto impenditoriale la Call Veri e Prope invece sarà lanciata a settembre quindi dal 14 settembre al 14 ottobre sarà prestibile presentare il progetto che sarà valutato da una commissione composta appunto dai nostri partner istituzionali e tecnici selezioneremo 10 progetti che saranno presentati in occasione di un evento a fine ottobre e sarà premiato il miglior progetto con un carnet di servizi del valore di 40.000 euro tutti gli altri chiaramente saranno poi accompagnati nella definizione del loro nella realizzazione del loro progetto impenditoriale ma uno in particolare sarà premiato su quali progetti si mira noi abbiamo identificato come preferenziale dei requisiti dei progetti legati ai settori dell'artigianato del turismo della cultura dell'enogastronomia dell'economia del mare e l'economia circolare con particolare attenzione per quei progetti che utilizzeranno servizi tecnologie legate alla intelligenza artificiale internet delle cose blockchain eccetera eccetera verranno valutati come prioritari progetti scalabili e progetti i cui componenti dei team dimostreranno competenze coerenti con il progetto presentato e con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'e-mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484 grazie per la cortese attenzione a a a i i i Autore dei sovrapposti